Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il titolo di Stato a 10 anni italiano è quello tedesco, che questa mattina è schizzato a 2.43, ora siamo a 238 punti base. La causa la sappiamo, sono le dimissioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi, formulate questa mattina dopo una giornata, quella di ieri, campale per il destino del suo governo, con la fiducia incassata ma lo sfaldamento totale della maggioranza, che lo ha sostenuto per circa un anno e mezzo. Una dimensione molto simile rispetto a quella del governo Monti di un paio di lustri fa, ma con un esito differente. Si va alle elezioni, si andrà alle elezioni in una fase che oscilla tra il 18 settembre e il 10 ottobre. Insomma, sentiremo la campagna elettorale sotto l'ombrellone, evidentemente consono alla politica italiana, ma insomma, quello che a noi interessa è che cosa accade dei nostri soldi e dei nostri spari, che cosa dobbiamo fare adesso? Perché c'è un altro elemento importante da considerare, la decisione che la Banca Centrale Europea da qui a qualche minuto prenderà per quello che riguarda i tassi di interesse, ma soprattutto per il valo di quello scudo antispread che fino all'altro ieri era uno strumento perfetto per gestire la politica monetaria dell'Eurozona, ma che ora, dopo la crisi di governo italiana, è tutta da capire. Ne parliamo insieme ai nostri ospiti. Saluto Vito Lops, che è in collegamento con noi qui in studio. Buongiorno Vito. Ciao Marco, buongiorno. Collega della redazione Finanza del Sole 24 Ore. Saluto Massimiliano Maxia di Allianz, grande esperto di titoli di Stato. Buongiorno Maxia. Buongiorno. Perché i titoli di Stato? Perché i titoli di Stato contano non soltanto nel confronto dello spread, ma titoli di Stato emessi dall'Italia, dalla Repubblica Italiana, servono per l'attività corrente, per pagare le pensioni, per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici, per tutta l'attività corrente dello Stato, che non ha sufficientemente soldi per gestire tutto ciò. Non siamo sovrani dal punto di vista della finanza, non lo è nessuno di fatto, noi tantomeno per quanto siamo indebitati, quindi è opportuno avere un focus molto importante sui titoli di Stato. Saluto anche Carlo Benetti di GAM, che è collegato con noi. Buongiorno Benetti. Buongiorno, grazie dell'invito. Diciamo strategist, posso definire così la sua attività, insomma, un analista, il prospettico, tra l'altro curioso di fatti storici della storia della finanza, poi magari ci andrà a raccontare un po' di cose. Siamo chiaramente in un sito del Sole24ore, ma anche sui nostri canali social, LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube. Io guardo più o meno tutti, se avete delle domande provate a darci qualche stimolo, perché sarà sicuramente utile interloquire con i nostri ospiti e chiedere loro un'opinione su cosa è opportuno fare oggi per gestire la quotidianità, per gestire il breve termine, ma anche il medio e lungo termine può essere interessante provare ad avere una visione, diciamo, prospettica per la gestione del nostro denaro. Subito con Vito Lops, perché la giornata si è prospettata, insomma, negativa, non poteva essere altrimenti, ma da qui, come dicevo, a pochi minuti, è da quello che dirà e da come lo dirà Cristina Garda, Presidente della Banca Centrale Europea, beh, dipende molto anche del clima di Piazza Affari e dei titoli di Stato italiani. Certo Marco, questo possiamo dire che è un po' un film che abbiamo già visto altre volte, ma con grande diversità rispetto alle altre volte, nel senso che appunto c'è questa importante riunione della BCE a cavallo della, ripeto, ennesima crisi politica italiana, con l'inalzamento dello spread, con Piazza Affari sotto stress, eccetera, eccetera, però questa volta non è soltanto l'Italia per occupare la BCE, ma è un po' tutto l'assetto europeo e un po' tutto il sistema, proprio abbiamo visto anche l'euro che nei giorni scorsi addirittura ha perso la parità con il dollaro e c'è anche la stessa Germania che appunto è in difficoltà economica, potrebbe essere anche la prima economia dell'area euro eventualmente a finire in recessione, quindi diciamo c'è tanta attesa per la BCE proprio perché questa volta è molto diverso, è molto complesso come schema, non c'è soltanto il tema dell'Italia, non c'è soltanto il tema dello scudo, ma è un puzzle molto molto più difficile da mettere a posto, quindi io stesso sono molto curioso, tra virgolette, giornalisticamente parlando, di capire come dirà, quello che dirà e come dicevi tu, come lo dirà, perché poi può bastare anche uno sguardo, un qualcosa ad insospettire eventualmente gli investitori e quindi credo che questa reazione di questo meno 2% di Piazza Affari nella prima parte della mattinata sia eventualmente parziale perché poi tutti stanno aspettando eventualmente appunto quello che dirà la BCE e quindi il bilancio di fine giornata dovremmo farlo veramente oggi alle 17.30. Siamo proprio all'antipasto per il momento, quindi dobbiamo capire la giornata come si dipanerà. Maxia, voi di Allianz chiaramente siete un grande colosso assicurativo, ma con un'importante attività di gestione del risparmio, guardate con molta attenzione quelli che sono i titoli di Stato e il mercato obbligazionario in genere, proprio perché da lì dipende anche la stabilità dei paesi e sappiamo che l'Italia è vulnerabile, visto un debito pubblico che è più di una volta in mezzo il PIL. Già veniamo da una fase di grande criticità in questo periodo, già lo spread era oltre 200 punti base, ce lo sottolinea un ascoltatore, Antonio Di Cristofano, che su Facebook dice va bene, le cavallette, il diluvio universale, ma prima della caduta di Draghi come erano i risparmi con l'inflazione all'8% e più di 200 punti di spread? Insomma, siamo sicuri che il problema Draghi, per meglio dire il problema crisi governo italiana, sia il problema maggiore in questa fase? No, non è sicuramente il problema maggiore in un contesto più internazionale, indubbiamente, perché siamo in una situazione dove abbiamo l'inflazione più alta degli ultimi 40 anni, sia negli Stati Uniti che in Inghilterra che in Europa. L'Europa è in un contesto particolarmente fragile, perché abbiamo una guerra alle porte, con tutte le conseguenze sull'economia e sulla vita di tutti i giorni che stiamo incominciando a vedere. Certamente la vicenda italiana si inserisce in questo quadro molto complesso, oggi la BCE, noi stiamo attendendo trepidamente le decisioni relativamente a quello che viene definito il piano antiframmentazione del mercato obbligazionario dell'aria euro da un certo punto di vista, ma oggi è anche il giorno dove la Banca Centrale Europea per la prima volta dopo 11 anni alza nuovamente i tassi di interesse ufficiali, forse di 25 punti base o forse di 50 basis point, secondo me è ancora abbastanza tutto aperto, sia la possibilità di 25 basis point che di 50 basis point. Quindi certamente non c'è soltanto la situazione italiana a pesare su un contesto macroeconomico molto complicato, dove probabilmente assisteremo ad un rallentamento dell'economia molto significativo, soprattutto in Europa. Quindi le decisioni che dovrà prendere oggi la Banca Centrale Europea saranno sicuramente delle decisioni molto importanti. Sono d'accordo sul punto che la comunicazione sarà fondamentale. Nella riunione di emergenza del mese scorso la BCE è stata in grado di gestire quelle che erano allora le aspettative degli investitori, quindi calmare la volatilità che si era aperta temporaneamente sui mercati obbligazionari. Oggi a maggior ragione, in una vicenda come quella italiana particolarmente dedicata, ciò che dirà Christine Lagarde sarà molto importante per gestire le aspettative dei mercati, per gestire di conseguenza una fase di volatilità che non si esaurisce nella giornata di oggi, ma che è destinata a proseguire nel corso delle prossime settimane. Certamente una BCE convincente oggi pomeriggio darà un certo tono all'andamento dei mercati per il prossimo futuro. Una BCE molto meno convincente, vuoi perché non si è trovato un accordo politico tra Colombe e Trafalchi, vuoi perché purtroppo per l'ennesima volta, passatemi l'espressione, la BCE non è stata convincente nei toni e nelle parole e certamente avremo una situazione di volatilità ancora molto accentuata. Senta Maxia, le giro la domanda al contrario, perché è arrivato il commento di tenore opposto, diciamo così, in interpretazione, da commentare di un altro lettore, Antonio Ricci, che sottolina come con Draghi lo spread è volato alto, le borse sono precipitate, l'inflazione è schizzata, 17 mesi pesanti e ora speriamo che la ripresa arrivi presto, ma senza Draghi, cioè il problema era Draghi dell'inflazione, della borsa che scendeva, dello spread che saliva? Direi certamente no, non è sicuramente il responsabile per quanto riguarda l'alta inflazione che stiamo vivendo in questi mesi, non è il responsabile della correzione dei mercati azionari che è conseguenza a livello globale, non soltanto europeo, ma anche ovviamente a livello globale a partire dall'indice Standard & Poor's, è la conseguenza di un contesto che è cambiato completamente in termini di politiche monetarie da parte delle banche centrali, in quanto a fronte di un'inflazione che si è dimostrata essere non permanente, transitoria, come purtroppo le banche centrali ci hanno detto per tutto il 2021, si è dimostrato essere un fenomeno molto più strutturale e permanente nell'economia rispetto a quanto ci si poteva aspettare qualche mese fa e quindi il cambiamento di politica monetaria ha indotto una correzione sui mercati azionari, infatti vengono meno le condizioni di politica monetaria di politica azionari che fino ad ora ci hanno accompagnato nel corso degli ultimi anni, addirittura accentuate per effetto dello scoppio della pandemia. Inoltre la legislatura italiana era comunque destinata a terminare tra qualche mese, quindi certamente è una situazione che si sarebbe potuto evitare, ma comunque da qua a qualche mese avremmo comunque avuto lo scioglimento delle camere e nuove elezioni, quindi non direi assolutamente che Draghi è responsabile dell'andamento dei mercati finanziari o di alcuni fenomeni economici come la ripresa dell'inflazione, anzi la presenza di Draghi dal mio punto di vista era garanzia soprattutto a livello di percezione dei mercati finanziari, azionari e obbligazionari di serietà e infatti avevamo visto molti miglioramenti dal punto di vista dell'andamento delle riforme nell'ambito del PNRR, ecco questi fattori hanno invece contribuito positivamente almeno in un primo momento, certamente poi le dinamiche del mercato azionario italiano e del mercato obbligazionario italiano sono ovviamente legate a quello che succede più a livello internazionale. Ecco coinvolgiamo Carlo Benetti perché abbiamo detto appunto quello che dirà Cristi Lagarde e come lo dirà. La Presidente della BC già in paio di volte si è contraddistinta da piccole grosse sbavature nella comunicazione che per un banchiere centrale diventano diciamo peccati gravi visto l'effetto prodotto dalla comunicazione. Ci puoi ricordare un pochettino quando è successo come e chi riguardava perché se ben ricordo il tema era sempre il debito pubblico italiano in particolare. Infatti io scommetto fortemente sul fatto che oggi Lagarde smentisca il detto non c'è due senza tre e abbia una comunicazione impeccabile che possa restituire un po' di fiducia ai mercati. però dobbiamo anche onestamente riconoscere il mestiere difficile del banchiere centrale in Europa rispetto agli Stati Uniti perché negli Stati Uniti devono fare i conti con un'economia in surriscaldamento. In Europa c'è un'inflazione innescata soprattutto da prezzi importati, l'energia e la frammentazione fiscale, il debito appunto. Una politica monetaria per tante politiche fiscali. Detto questo rispondo al suo invito. È vero, il 12 marzo 2020 al primo appuntamento importante nella comunicazione che è diventato un po' un altro elemento di guida dei banchieri centrali, la forward guidance come si dice, dare indicazioni al mercato. Il 12 marzo del 2020 un passo falso sugli spread appunto a proposito del debito innescò una giornata nerissima sulle borse, la borsa italiana registrò un meno 17 che è ancora il record di perdita massima nella storia del nostro listino. Poche settimane fa, il 9 giugno, anche qui a proposito del debito, sui rischi di frammentazione finanziaria, sulla vulnerabilità dei paesi fiscalmente più deboli, non fu sufficientemente convincente, tanto che una settimana dopo il 15 fu necessario un consiglio straordinario della banca centrale per ribadire il commitment, la volontà, la decisione della banca centrale a impedire la frammentazione. Oggi abbiamo un elemento che aumenta un'entropia, la crisi di governo aumenta l'entropia ma non ne è la causa scatenante, lo avete appena ricordato. Abbiamo stamattina la ripresa delle forniture di gas che fino a ieri era incerta, la ripresa del Nord Stream, abbiamo la Germania, un modello, ecco siamo ad un shift paradigmatico, cambia il modello economico. In Germania non è appena in crisi il surplus che si è azzerato, ma è in crisi il modello centrato su una manifattura energivora, energia a basso costo ed esportazioni. Questo entra in crisi. On top, cioè la ciliegina sulla torta è la crisi di governo italiana. Quindi oggi il mestiere di Lagarde è particolarmente difficile. Allo scenario come sta cambiando? Perché sta cambiando in maniera vigorosa anche in relazione a quello che è accaduto negli ultimi mesi, da sei mesi in qua, dall'inizio della guerra in Ucraina, ma già prima, insomma, prima c'era una fiammata inflattiva a Vito che era determinata dalla ripartenza dopo la pandemia, poi la carenza di energia dalla Russia ha peggiorato la situazione. Ora la situazione si complica, ma guardando i rendimenti dei titoli di Stato che cosa si può arguire, che lezioni si può trarre da quello che i mercati fotografano? Poi andiamo a vedere su chi fa i mercati anche, chi è che compra, chi è che vende, proveremo a dare qualche risposta e anche qualche indicazione operativa. Ma che cosa ci dice la borsa oggi intanto? Sì, i bond sono lo specchio delle aspettative delle varie aree economiche. Per quanto riguarda gli Stati Uniti abbiamo notato che ormai sul decennale il 3% è una resistenza importante perché comunque i mercati da quell'altra parte dell'oceano stanno scontando una manovra molto aggressiva della Fed nel breve, ma poi anche un ritorno alla normalità e quindi magari nuovamente a tagliare poi questi stessi tassi che la Fed sta alzando con molta velocità, magari già dal 2024 e quindi abbiamo una curva che più ci si allontana, più diventa piatta. Però la stessa curva americana ci dice che c'è l'aspettativa anche di una recessione perché i rendimenti a due anni sono più alti rispetto a quelli a dieci anni, quindi tecnicamente si è invertita. Per quanto riguarda l'Italia anche qui abbiamo rendimenti che intanto hanno sorpassato sia a due anni che a dieci anni, quindi in entrambi un po' le scadenze benchmark che vengono analizzate, quelli della Grecia. Parliamo di pochi punti però è simbolico perché ogni volta che questo accade vuol dire che c'è tensione, c'è volatilità e la Grecia ha comunque un rating inferiore a quello dell'Italia e quindi è un'anomalia. Cioè la Grecia è considerata meno affidabile dell'Italia ma ha un tasso di interesse sul proprio debito che è più basso dell'Italia, quindi è fotografata meglio dai mercati. Sì, in questo momento le agenzie di rating attribuiscono un rating più basso, doppia B rispetto alla tripla B italiana, ma i mercati finanziari proprio nelle ultime giornate attribuiscono un rischio paese più elevato, anche se di poco, rispetto alla Grecia dell'Italia perché appunto c'è stato questo sorpasso dei rendimenti. Non è un bel segnale, diciamolo, perché deve essere chiaro, non è un bel segnale, certo poca cosa però insomma è un'indicazione. È un'indicazione sì di tensione che monitoreremo e poi anche in Italia la curva 10-2 anni è vicina alla inversione o comunque anche questo, il fatto che i 2 anni stiano salendo più velocemente dei 10 anni vuol dire che nel breve periodo ci si aspetta molta molta tensione e ci auguriamo che poi appunto possa risolversi perché poi alla fine Marco tutto questo va a finire nelle tasche dei risparmiatori perché pagare più interessi sul debito, questi sbalzi degli spread, dei tassi finiscono per impattare sulle nuove emissioni dei titoli di Stato e quindi per avere un maggiore costo da parte del Tesoro. E se si tratta di sbalzi legati non a questioni di fondamentale economico, delle esportazioni, cioè della capacità del Paese di essere a mercato ma soltanto alle questioni politiche è davvero un dispiacere. Allora noi dobbiamo sempre ricordare che non solo abbiamo un debito pubblico, ma questo debito pubblico costa, cioè ogni anno per rifinanziarlo dobbiamo pagare degli interessi e questi interessi vengono monitorati in maniera attenta, adesso tra poco vi do tutti i numeri, però provate a indovinare quanto spendiamo ogni anno di spesa e di interessi sul debito, cioè quanto ci costa il debito italiano, possiamo fare un'idea con quello che potremmo fare di questo denaro, provate a scrivere sui social quanti miliardi costa ogni anno, poi cercheremo di trovare il dato puntuale ma il dato fino all'anno scorso ce l'abbiamo. Maxia, i titoli di Stato è importante e ci stiamo lavorando in queste ore, sulle 24 ore di domani troverete molti elementi interessanti di approfondimento su questo tema, però negli ultimi anni gli investitori stranieri erano usciti dal titolo italiani, dai BTP in particolare, la percentuale maggioritaria era di domestici, cioè di investitori italiani, quindi chi sta vendendo sugli italiani oggi, o sbaglio? Ma allora facciamo delle considerazioni anche un attimino più di carattere generale, nel senso che ci sono degli aspetti del mercato obbligazionario che in alcune circostanze sono positivi e altre negativi, nel senso che il mercato obbligazionario italiano è uno dei più grandi dell'area euro ed è uno dei più liquidi e inoltre ha la possibilità di utilizzare anche molte volte i derivati sul titolo a 10 anni, sul titolo a 2 anni, quindi questo rende il mercato obbligazionario italiano un segmento del mercato obbligazionario più in generale che permette di prendere dei posizionamenti a livello di portafoglio complessivo molto semplici. Se c'è un contesto negativo per i mercati azionari, un contesto di avversione al rischio da parte degli investitori, una strategia molto semplice da implementare è ridurre il posizionamento sul debito pubblico italiano. Cioè vendere BTP di fatto e quindi puntare? Vendere BTP, esattamente, in un mercato che è estremamente liquido e l'opposto avviene quando invece le condizioni di mercato e la propensione al rischio degli investitori, soprattutto internazionali, è positiva. Quindi quello che stiamo vedendo nella giornata di oggi è ovviamente un aumento della volatilità che porta a limare delle posizioni che gli investitori hanno sul debito pubblico italiano, anche perché abbiamo tra circa un'ora più o meno un evento molto importante che può cambiare la direzionalità anche sul BTP e sul mercato obbligazionario in generale. L'Alagab nella sua prima riunione aveva detto non siamo qui per chiudere gli spread, avevo usato sostanzialmente questa espressione. Forse paradossalmente questa è un'espressione, sono delle parole che potrebbe usare anche oggi, in quanto certamente non è compito della BCE intervenire se lo spread allarga per motivi specifici legati all'evoluzione della politica italiana. Lo scudo anti-spread è un meccanismo assolutamente necessario per affronteggiare un contesto dove l'inflazione sta aumentando, la Banca Centrale Europea dovrà aumentare i tassi di interesse e questo danneggia, come diceva giustamente, come stavate giustamente dicendo voi, i paesi più fragili che hanno un debito più elevato perché il costo del debito con tassi di interesse più alti ovviamente aumenta e questo peggiorerebbe ulteriormente la situazione dei paesi che hanno un'economia e un sistema complessivo più fragile. Quindi oggi per tornare alla domanda chi sta vendendo, certamente un po' tutti gli investitori nei loro portafogli stanno cercando di ridurre parzialmente l'esposizione in attesa di capire quale sarà l'evoluzione degli eventi e sicuramente nel corso delle prossime ore avremo un quadro molto più chiaro. Benetti, in tutto ciò che cosa conviene fare? Che cosa è opportuno fare? Perché, questa è la domanda che molti si pongono ascoltandoci conversare di questi temi, anche perché noi abbiamo considerato nell'ultimo decennio l'opzione di tenere i soldi sul conto corrente senza rischi fino ai 100.000 euro, sappiamo bene i fondi di garanzia e quant'altro, con l'idea che appunto non essendoci inflazione addirittura con tassi negativi, insomma, non ci perdiamo, ma se l'inflazione arriva all'8%, i miei 100 euro in portafoglio e fra un anno ci potrò comprare meno cose, varranno 92, varrà molto meno insomma quelle banconote che ho nel mio portafoglio. Quindi l'inazione, stare fermi è un vero e proprio dramma per gli investitori che sono in qualche modo tra asci e le caridi, tra due fuochi, da una parte perdere per l'inflazione e dall'altra parte dover rischiare ma come? Allora proviamo a fare ordine, che cosa è opportuno fare oggi? Cominciamo dalla liquidità, chi è sovrabbondante, io leggo lei, leggo Vito Lops, ne parlate spesso sul Sole 24 ore e invito agli ascoltatori a continuare a seguirvi perché mettete sempre l'accento sui rischi della liquidità che appaga una sensazione psicologica di controllo. Io vedo i miei soldi sul conto corrente o con strumenti tranquilli e sono tranquillo perché li vedo non esposti alla volatilità di giorno per giorno come ad esempio oggi le perdite di borsa, ma è una sicurezza costosa, lei lo ho appena ricordato con il tasso di inflazione che diventa molto aggressivo, molto violento, ma soprattutto la liquidità è un re di maggio, quando si dice liquidità è re, cash is king, quando nelle fasi di mercato negativo, è un re di maggio, come Umberto II che fu re per un mese dall'abdicazione del padre fino al 13 giugno quando con l'esito del referendum abbandonò l'Italia, perché nel lungo termine la liquidità non solo paga il pegno dell'inflazione, ma manca il rendimento di un investimento non fatto e il rendimento composto, che è l'ottava meraviglia del mondo, di quell'investimento, l'interesse composto. Se l'investitore facesse come Mr. Magoo, quel personaggio dei cartoni animati ipovedente che passava senza rendersi conto tra i cantieri, gli cadevano vicino gli oggetti, camminava sui cornicioni, però arrivava a casa in column, dovremmo fare come Mr. Magoo, provare a guardare non il giorno per giorno, ma ad esempio anno per anno. Se guardassimo anno per anno, vedremmo che negli ultimi 20 anni la borsa americana, prendiamo la borsa più liquida, quella di cui abbiamo statistiche molto disponibili. È stata negativa per 4 anni e anche negli anni in cui è stata molto positiva ha subito perdite relative, molto importanti, perdite temporanee. Ricordiamo il 2020, ad esempio il 2021, anni finiti positivamente, ma con forti il 2020, il febbraio-marzo, quei 10 giorni che sconvolsero il mondo. Per cui l'invito è cercare di allungare la prospettiva, di allontanarsi dalla quotidianità e guardare l'esito dei mercati, parlavamo prima della storia dei mercati, allora vediamo che nella storia del lungo periodo, nel ciclo ventennale dei mercati la borsa premia. Nel 42, questa è una curiosità, perché mai avrei pensato di dover riprendere dallo scaffale un libro del grandissimo Barton Biggs sui mercati finanziari durante i 5 anni, i 6 anni della guerra mondiale. Il mercato americano nel 42, subito dopo la battaglia di Midway, segnò una inversione quando ancora mancavano, non lo si sapeva all'epoca, lo sappiamo oggi, mancavano più di 3 anni alla fine della guerra che sarebbe costata vittime e distruzioni. Eppure quella battaglia sembrò significare una inversione, il mercato azionario americano invertì nel 42 e andò avanti fino agli anni 50, anche dopo la conclusione della guerra. Questo per dire che allontanandoci dal giorno per giorno forse si impara ad avere una prospettiva più rilassata. Mister Magoo appunto, che passa in mezzo ai pericoli in Colume. Almeno, mi permetto di chiosare, almeno per quel denaro che non ci serve nell'immediato, quello che mettiamo sul conto corrente per il non si sa mai, e questo non si sa mai, tenerlo lì fermo immobile, o non tutti hanno questa fortuna, chiediamolo. Però il dato complessivo statistico è che gli italiani hanno oltre 1800 miliardi di liquidità sui conti correnti, Vito, e una quota non indifferente, era stato calcolato da Plus qualche mese fa, superiore a un quarto di questo patrimonio è su conti correnti che hanno un'aggiocenza superiore ai 100 mila euro. Questo è un dato che ci dice che sostanzialmente i soldi non è che non ci sono, diciamo, sono chiaramente concentrati purtroppo su una punta della piramide e quindi c'è una scarsa redistribuzione del risparmio, diciamo così. Il punto è che poi vengono gestiti male questi denari e non ci si rende conto del vantaggio del lungo termine, ci si preoccupa. Noi facciamo informazione per cui ogni giorno raccontiamo delle cose, però dobbiamo anche raccontare, fare quel po' di educazione finanziaria per insegnare alla gente che non c'è soltanto la gestione di breve termine, ma c'è anche il medio e lungo termine. Assolutamente, è davvero un peccato leggere questi numeri, soprattutto in anni come questo dove l'inflazione è tornata a ruggire, quindi l'impatto del danno di non essere a mercato con una strategia lungimirante quest'anno sarà molto più alto perché se facciamo 1800 per 8-9% siamo intorno ai 150, forse qualcosa in più, miliardi di euro che verranno erosi quest'anno dal punto di vista del potere di acquisto di questi soldi in quest'anno, quindi davvero una cifra monstre che deve servire però come una molla per darsi da fare perché secondo me nei prossimi anni chiaramente le banche centrali saranno meno generose per forza di cose e quindi l'investitore medio deve attrezzarsi perché il gioco si sta facendo un po' più complicato e quindi questa liquidità può essere davvero utilizzata in modo più profittevole anche perché c'è il tema come ricordava l'ospite del costo opportunità che è un tema che Maxia di Allianz Global Investor vede molto bene perché è un professionista e opera sui mercati con grande attenzione. Per molti piccoli risparmiatori o piccoli investitori il costo della mancata opportunità colta sfugge all'attenzione. Quando la borsa come è successo l'anno scorso ha guadagnato il 20% e più, moltissimi non hanno approfittato. Allora c'è il tema di una corretta declinazione delle scelte in base alle premesse che è la grande sfida dell'industria del risparmio gestito, Maxia? Certamente bisogna costruire dei portafogli di investimento che siano sempre coerenti con quello che è il profilo di rischio di ciascun investitore con le sue necessità e con l'orizzonte temporale di investimento, come veniva ricordato poc'anzi. Queste sono le cose che dobbiamo tenere sempre bene a mente quando costruiamo un portafoglio. Poi ovviamente dobbiamo distinguere l'aspetto di breve termine con l'aspetto di lungo termine nella costruzione del portafoglio e sta poi diciamo a chi gestisce i vari mattoni del portafoglio complessivo di un investitore doversi posizionare nel modo che viene ritenuto più opportuno in ciascun contesto specifico di mercato. E a tale proposito, visto che abbiamo parlato ampiamente di titoli di Stato e anche di PTP, questo è un contesto di mercato al di là della volatilità che stiamo vedendo in queste ore, al di là del discorso relativo all'ispreta, agli interventi della BCE, ma questo sta diventando un contesto comunque favorevole ai titoli di Stato, perché stiamo andando verso una situazione di quadro macroeconomico in rallentamento, se non addirittura probabilmente in recessione, sperando ovviamente che sia una recessione di breve periodo e una recessione non particolarmente forte. In questo contesto di mercato sono proprio i titoli di Stato che performano meglio rispetto ad altri strumenti dei mercati finanziari, ad altre attività dei mercati finanziari. Veniva ricordato prima che il rendimento sul titolo americano a 10 anni è stabile intorno al 3%, ed è, secondo il nostro punto di vista, un'opportunità di investimento, perché significa che quello che farà la Fed nel corso dei prossimi mesi è in parte già scontato, si va verso un rallentamento dell'economia americana, i titoli probabilmente verranno tagliati i tassi di interesse, anche se in questo momento ovviamente nessuno ne parla, ma prima del previsto, più avanti nel corso del tempo, ecco questo è un contesto che favorisce l'investimento sui titoli di Stato. E lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda l'Europa, forse a maggior ragione se ci sarà un rallentamento dell'economia ancora più pronunciato. E anche il BTP, che adesso è ovviamente sotto i riflettori, ma ricordiamoci che in termini relativi, cioè rispetto ai rendimenti offerti dai titoli obbligazionali degli altri paesi, sono sicuramente più interessanti. C'è più volatilità, c'è più rischio, ahimè anche per motivi non economici finanziari, però in un portafoglio hanno assolutamente la loro ragione d'essere, quando arriviamo a dei livelli probabilmente ancora più elevati rispetto a quelli attuali e soprattutto in un contesto caratterizzato da una maggiore volatilità. Poi sono ovviamente d'accordo con quello che è stato detto, che queste forti correzioni che abbiamo visto dall'inizio dell'anno possono rappresentare un'occasione d'acquisto per un investitore, mi riferisco ovviamente soprattutto ai mercati azionari, per un investitore di lungo periodo. Ecco Benetti, proprio su questo punto, facciamo finta che non sia il 21 luglio del 2022, ma il 21 luglio del 2030, rivedendo la registrazione di questa trasmissione, diremmo ecco, quella scelta lì consigliata a Benetti era, allora al di là del consiglio, Maxia parlava dei titoli di Stato, in questa fase performano meglio, in una fase recessiva, ma volendo guardare in un orizzonte di otto anni, sono le azioni quelle che potrebbero essere più premiate, soprattutto ora che hanno sottoperformato, come si dice, cioè hanno risentito parecchio gli indici dei cali provocati dai problemi, dal shock energetico, la guerra in Ucraina e tutte le conseguenze collegate. Cosa ne pensa? Che indicazioni ci può dare? E poi azioni europee, americane, di che tipo? Beh, questa è una bella domanda. Innanzitutto è vero, lo ricordava lei correttamente poco fa, quel denaro che non serve. Per il non si sa mai ci sono le assicurazioni, la liquidità per l'incertezza, per l'imprevisto, meglio ancora, ma per il lungo periodo la pianificazione finanziaria, meglio sia assistita da un esperto di fiducia, può essere allocata nell'investimento azionario che tra otto anni posso scommettere con relativa tranquillità, davvero potremo vedere con distacco le ore pesanti che stiamo vivendo adesso, perché l'ultimo anno negativo è stato il 2018, non il 2020 con il massacro in termini sociali, umani ed economici portato dalla pandemia, o il 21 che invece poi è stata la ripresa. Le azioni hanno retto anche nei momenti peggiori, ricordavo il 42 appunto in piena guerra come le azioni avessero ripreso. Come scelta, in questo momento i rischi recessivi dovuti alla nostra vulnerabilità alle forniture di idrocarburi, gas e petrolio dalla Russia, i rischi maggiori di rallentamento e recessione sono in Europa. Ci sono però degli elementi positivi già oggi a cui guardare. Uno, il consumatore americano, perché dicevo del modello tedesco in crisi, basato sulle esportazioni e di energia a basso costo, ma l'economia americana è retta per la grande parte nei consumi e abbiamo visto come stanno tenendo nonostante la sfiducia o gli indici di fiducia diminuiti. Poi ci sono i segnali dalla Cina, i mercati emergenti sono esposti e vulnerabili al dollaro forte, al super dollaro, ma sono sensibili al motore cinese e la Cina a ottobre celebrerà il ventesimo congresso, Xi Jinping si vuole presentare con le carte in regola e cioè il Covid debellato e l'economia in ripresa e sappiamo che le leve del governo cinese sull'economia sono molto corte, non c'è moral suasion, il governo dice che si va da una parte e l'economia va da quella parte. Per cui anche l'economia cinese è un'area di interesse, io credo che davvero è un partner commerciale, un avversario strategico ma la Cina in termini economici, poi ci sono quegli ambiti del tecnologico, del digitale, dell'economia verde particolarmente aiutati dagli investimenti governativi, per cui qualche segnale positivo, aree alle quali guardare con un po' di fiducia ci siano. Per quanto riguarda l'Europa e l'Occidente i grandi temi, ad esempio il tema della tecnologia, della tecnologia disruptive destinata a durare o il lusso, i consumi dei beni di alta gamma che sono temi di pluridecennali. Vito Lops, oggi ci stiamo concentrando sulla connessione tra la crisi politica italiana, mercati finanziari, la BCE che cosa farà, quindi abbiamo una visione molto concentrata sull'oggi, ma già da qualche giorno, e qui ti coinvolgo sul tuo cavallo di battaglia che sono i mutui di fatto anche, già da un po' di tempo insomma i mercati iniziavano a scontare qualcosa emerso, ma una fine della recessione, una ripresa, cioè una fine dei tassi in aumento, un'ipotesi di taglio, di abbassamento dei rendimenti e quant'altro. Ecco, i mercati cercano sempre di anticipare i cicli, a volte esagerano, sbagliano, per cui sono fatti di esseri umani, però ci puoi raccontare un pochettino questa dinamica e poi come impatta sui mutui? Sì, abbiamo visto gli Eurir's che sono collegati al Bund tedesco e ai mutui a tasso fisso, chiaramente ai nuovi mutui a tasso fisso, non a quelli già stipulati, eccetera, eccetera, che hanno avuto un movimento di picco. Al 21 giugno sono saliti al 2,58%, parlo per la scadenza a 20 anni, e ricordiamo che a inizio anno invece erano quasi a 0,04, 0,5%, quindi 200 punti base in sei mesi per questi indici, davvero non si vedevano da tempo. Però allo stesso tempo poi abbiamo visto nelle ultime settimane un rallentamento di quasi 40-50 punti base, che un po' riflette anche quello che abbiamo visto sul Bund tedesco, che era arrivato sulla scadenza a 10 anni all'1,9% e adesso è intorno all'1,2-1,3% in giornate comunque volatili. Però questo vuol dire che chiaramente chi sta pensando di stipulare un mutuo dovrà osservare con molta attenzione questi indici che pur osservando, pur essendo tarati sul lungo periodo, in realtà sono incredibilmente volatili in queste ultime settimane e dall'indice che si riesce a strappare il giorno della stipula o col contratto bancario poi dipenderà il costo della rata, quindi anche il mutuo a tasso fisso risente di una estrema volatilità dell'indice che lo compone, volatilità che in questi giorni, queste settimane è esasperata anche dal fatto che i mercati cominciano a scommettere sul fatto che uno la BCE magari non andrà ad alzare tante volte i tassi, almeno quanto lo ha fatto la Federal Reserve perché non avrà la possibilità di farlo, perché magari la recessione arriverà prima ed sarà la stessa recessione ad abbattere una parte dell'inflazione che un'operazione di rialzo tassi vuole combattere. E due, appunto, si naviga a vista perché c'è, lo ricordiamo, stiamo stipulando mutui ai tempi di guerra, quindi tempi di guerra non è una battuta, è davvero difficile fare previsioni su questi indici interbancari che comunque per quanto orientati su 10-20 anni, ripeto, si stanno muovendo davvero tanto. Sinteticamente, meglio un tasso fisso o un tasso variabile oggi? È la grande domanda dalle 100 pistole. Negli ultimi anni è sempre stato meglio il tasso variabile, ma negli ultimi trimestri chi è riuscito a fare un tasso fisso sotto l'1% a mio avviso ha fatto il bingo, ha fatto il bingo finanziario della propria vita, almeno in qualità di debitore. In questo momento è davvero difficile dare una risposta perché i fissi stanno scontando un brutto scenario perché costano 200 punti base in più rispetto ai variabili e quindi chi compra oggi un fisso paga un'assicurazione molto cara che già incorpora vari rialzi dei tassi della BCE e chiaramente questa assicurazione costa. Anche per questo motivo stanno andando un po' di moda e qui spoglio un prossimo pezzo che sto per preparare, i muti a tasso variabile con CAP. Tornano di moda perché erano stati lanciati anni fa. Stanno tornando di moda perché hanno quella protezione che in questo momento piace e magari è necessaria e partono comunque con un livello di costo di tasso più basso perché agganciati agli Euribor che sono comunque distanti dagli IRSE anche se gli stessi Euribor stanno salendo proprio in ragione della BCE e scopriremo. Marco se tu me lo consenti io chiederei agli ospiti, visto che manca poco, cosa pensano loro della BCE? Farà 25 o 50 punti base? Perché questa è una domanda che è molto... Un consenso sindiretto. Un consenso sindiretto. Un consenso sindiretto. Un consenso sindiretto. Partiamo da Maxia. Io credo che oggi farà 25 e 50 settembre anche perché la prossima revisione delle stime da parte della BCE sull'inflazione per i prossimi anni e sul prodotto interno lordo dell'area Euro per i prossimi anni verrà fatta a settembre e siccome la variazione sarà significativa rispetto alle precedenti proiezioni è più giustificabile in teoria un 50 basis point di rialzo nella riunione di settembre. È anche però evidente che l'inflazione alta c'è già e quindi non sarei così sorpreso se dovesse esserci già oggi un 50. Forse l'aspetto 25 e 50 è anche da ricollegare a quanto è stato deciso, se è stato effettivamente deciso qualche cosa sul piano antifragmentazione. Cioè le colombe vogliono probabilmente 25 basis point, forse sono disposte a dare 50 basis point a chi è più falco all'interno della BCS e dall'altro lato sono riuscite ad ottenere di più sullo scudo antispread. Altrimenti sarà probabilmente un 25 basis point. Non credo che comunque il mercato sarà particolarmente sorpreso, né nel caso di 25 né nel caso di 50. Benetti, tocca alle previsioni di Benetti. Più che questo è un po' un tirare la monetina, però sono d'accordo con Maxia, nel senso che spero i 25 proprio per la crisi di governo italiana, perché c'è un innegabile trade-off tra la recrudescenza della politica monetaria, un inasprimento e quanto più è alto l'aumento dei tassi, tanto più aumentano le preoccupazioni sulla tenuta dei conti pubblici. Perché al Ministero del Tesoro hanno fatto un lavoro straordinario, prima che è nata poi Iacovoni, nell'allungare la duration del nostro debito che è intorno ai 7 anni. La durata è intorno ai 7 anni, però da oggi a fine anno dobbiamo finanziare, il debito italiano deve finanziare poco meno della metà, 40% ancora da finanziare. Lo faremo a prezzo più caro. Quindi quanto più aumenta, tanto più i problemi e le preoccupazioni sulla nostra tenuta. per cui anch'io penso 25% e si gioca sullo scudo anti-spread dove c'è una contraddizione tra la percezione dei mercati sugli effetti del tightening e che quindi legittima lo strumento ma l'assenza di percezione, e parlo di casa nostra, degli effetti della crisi politica. Quindi è la parte endogena, quello che stiamo mettendo di nostro e che complica la vita alle colombe e all'interno del board dell'ABC. Staremo a vedere nel giro di qualche minuto, qualche ora, insomma avremo tutto più chiaro. Intanto abbiamo messo a disposizione le conoscenze, le professionalità dei nostri ospiti per capire come correlare quanto ci sta accadendo intorno alle nostre scelte, alle nostre decisioni quotidiane in termini di gestione del risparmio, perché è opportuno evitare errori e non farci guidare per esempio dalla paura, che è un sempre cattiva consigliera e che deve essere instradata. Le emozioni sono normali per gli esseri umani ma vanno un po' guidate per quello che è attraverso il calcolo, l'raziocinio e la pianificazione. Tema più volte citato dai nostri ospiti e le nostre conversazioni. Grazie a Carlo Benetti di GAM che è stato collegato con noi, insieme a Massimiliano Maxia di Allianz Global Investor. Grazie per il vostro momento. Grazie anche a Vito Lops per averci aiutato a completare, anche col tema mutuo, tasso fisso, tasso variabile, uno dei dilemmi classici della gestione del risparmio degli italiani. Perluverete tra pochi istanti tutta questa diretta sui canali social per poterla rivedere e ricogliere magari dei dettagli che vi siete persi. In chiusura non mi resta altro che ringraziare Valentina Tenani in redazione, Massimiliano Cipolla in regia e voi tutti per essere stati in collegamento. Da Marco Loconte l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.